Se avete febbre dopo un intervento chirurgico non vi dovete preoccupare, perché la febbre è un evento normale, è dovuta al riassorbimento del sangue. A seconda del tipo di intervento, a meno che sia uscito fuori troppo sangue dalla vostra articolazione, la febbre durerà un pochettino di più. In genere una febbre normale può arrivare fino al 38, 38 e mezzo ed è una febbre del tutto compatibile con l'intervento stesso. Se la febbre comincia a salire oltre 38 e mezzo, 39, contattate subito all'ortopedio perché potrebbero esserci dei problemi o anche delle infezioni.